È stata una partita tirata, condizionata da un episodio che a inizio ripresa ci ha accolti un pochino impreparati e poi successivamente non siamo riusciti a rimettere le cose in sesto. Però, soprattutto anche negli ultimi minuti, abbiamo provato con tutte le nostre forze a riprendere il risultato. Fa male perdere un derby, non lo nascondiamo, però c'è bisogno di ripartire perché la stagione è lunga ed è troppo importante ripartire già da Milano. Infatti questo è un periodo molto intenso, tra quattro giorni c'è una partita altrettanto complicata, c'è da dimenticare subito il derby e concentrarsi sul campionato. Sì, assolutamente. C'è da concentrarsi sul campionato perché a Milano sarà una partita molto difficile. Come ho detto prima, dobbiamo colmare questo tipo di ferite con la forza del gruppo. Ci dobbiamo unire perché da soli è molto più difficile superare questo tipo di delusioni e la forza del gruppo farà la differenza dal mio punto di vista. Forza del gruppo che c'è, perché negli ultimi risultati, risultati differenti, vittorie, pareggi, sconfitte, però c'è una linea comune. Questa forza del gruppo che si vede sempre, da qui bisogna ripartire. Assolutamente, quella è la base di tutto. Noi lasciamo tutto in campo, poi le partite possono andare male, possono andare bene. L'obiettivo principale di ogni partita è lasciare l'anima in campo. Poi, naturalmente, ad oggi la delusione è grande, però dobbiamo assolutamente ripartire.